Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che abbiamo visto avvenire in Iraq, che speriamo di non vedere avvenire, anche se ne abbiamo già visti parecchi in Egitto, in una situazione di questo genere. Mi sembra quasi un peccato affrontare questioni come quelle ultime che ho indicato. Grazie. Grazie. Dunque funziona questo coso? Io vorrei dire poche cose, forse anche un po' confusamente. Grazie. Anni fa volevo andare in Siria a fare una cosa fra musulmani e cristiani e non ho trovato una lira da nessuna parte, in una condizione in cui comunque potevo un pochino riuscire a gestire la faccenda. Cioè farli interloquire non è per niente facile. Diciamoci. Uno. Due. Le responsabilità, tutte occidentali. Certo, noi siamo specialisti, ma la responsabilità secondo me è anche della loro società, cultura, potere, vita, storia basata sulla loro religione. Noi ne abbiamo approfittato a grande, ma la loro debolezza, perché io mi chiedo ma perché sempre il macello in Medio Oriente? Perché chiunque si può permettere di mettere su un casino? Perché loro fra di loro hanno problemi, loro sono divisi, loro si scontrano fra di loro e lo sappiamo tutti, i sauditi, i sciiti, i gruppi, 5, 3, 4, le varie correnti. Allora, quindi c'è una debolezza interna a loro, no? Mi sembra evidente, ed è una cosa anche che a me mi addolora moltissimo il fatto che da questa primavera araba in realtà quello che è venuto fuori cosa è stato? Che quel po' di modernità che io sono testimone in questi anni e molti di voi che conoscono quei paesi abbiamo visto cose che funzionavano, non funzioneranno più per dieci anni. Cioè non saranno per tornare all'altro ieri, ci vorranno dieci anni. Speriamo meno, speriamo non sia così fatale come sembra. Terza cosa, l'universalità. Certo, un'universalità di un piccolo greggio forse, è un'universalità diffusa comunque, nel senso che è un mondo dove i cristiani stanno dappertutto. Siamo sempre meno, saremo sempre meno, ma siamo sempre tanti. Siamo sempre tanti.